Ci sono anche l'Osservatorio del Paesaggio Alessandrino e l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi e Viti Vinicoli di Langhero e Monferrato in appoggio alla candidatura UNESCO 2011 per il patrimonio mondiale relativa al territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e i rispettivi comuni. Per una diffusione maggiore della cultura e della comprensione del territorio, l'Osservatorio affianca l'attività dell'Associazione per attivare strumenti di dialogo e diffusione della cultura con istituzioni, enti vari e cittadini. L'Osservatorio del Paesaggio Alessandrino è dal 2004 che si occupa di paesaggio sul nostro territorio. Gli scopi sono scopi prevalentemente culturali, cioè quelli di fare cultura del paesaggio, di divulgare alle persone, ai cittadini comuni quale importanza può avere il paesaggio e quali ricadute anche economiche e anche sociali sulla qualità della vita che il paesaggio può avere. Un percorso, quello della candidatura, iniziato due anni fa, che si chiuderà con l'ultima settimana del prossimo giugno a San Pietroburgo. Entrare a far parte della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO significa generare un richiamo a scala globale delle bellezze della natura, il che può tradursi in una grande opportunità per lo sviluppo dell'economia locale. Uno degli aspetti principali che l'UNESCO ritiene di fondamentale importanza per l'iscrezione di un sito nella lista riguarda la protezione e la gestione del bene candidato. L'associazione che entra a far parte del coordinamento ha contribuito a sviluppare un progetto di 90 indirizzi come la conoscenza dei siti, la valorizzazione culturale ed economica, il potenziamento della comunicazione. Assessore, a che punto è l'iter di candidatura UNESCO? Ma direi che è un punto molto buono, siamo al termine, siamo in attesa ormai del giudizio conclusivo e quindi sotto questo aspetto direi tutto bene. Qual è l'importanza di passare questa candidatura? Cosa porterà al territorio? Ma porterà veramente tantissimo, porterà un'attenzione al territorio, intanto la consapevolezza, come diciamo sempre, anche di questa ricchezza che ci appartiene, è una consapevolezza che appunto viene fuori rafforzata. Però porterà sicuramente delle conseguenze molto importanti in termini di ricadute economiche per una valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. In tutto questo tempo quali esami e quali valutazioni ha dovuto superare il paesaggio? Ma tantissime, comunque la candidatura è di paesaggio culturale, quindi magari si pensa che sia solo un giudizio estetico della bellezza di un paesaggio, invece gli aspetti oggetto di valutazione sono molti altri e quindi davvero capire il perché questo territorio possa considerarsi unico e quindi è una storia di una civiltà contadina, quindi di tradizione, di cultura di queste nostre campagne, dei vigneti che sono coltivati e di questi vini eccezionali del nostro Piemonte.